una setta di mano Grazie E io ho detto che ci adopereremo E abbiamo entrambi ravvisato la necessità di una linea di fermezza da parte della comunità internazionale poiché il problema della sicurezza non riguarda soltanto Israele ma se Teheran dovesse dotarsi di un armamento nucleare riguarderebbe l'intera comunità internazionale L'Europa è necessaria una base costituzionale, una base istituzionale Grazie